Salve gente! Oggi piove un sacco, scusate per il rumore, ma volevo comunque girare un video in cui andiamo avanti con i consigli di lettura per autori. Siamo partiti dalle basi, quindi abbiamo un po' esplorato quei libri fondamentali, dei grandi classici o comunque dei libri che coprono proprio i primi passi nella scrittura. Oggi invece parliamo di libri un po' più mattoni, un po' più importanti ma anche più difficili da affrontare, però sempre interessanti. Partiamo con un titolo che non è poi così difficile da leggere in realtà, anzi io l'ho trovato molto divertente, anche di intrattenimento se vogliamo, da cui è stato tratto un film, è diventato piuttosto famoso, infatti soffre della copertina tratta dal film, che è una cosa che io in realtà odio. Sto parlando di Genius. Questo libro è in realtà una memoria dell'editor Perkins, diventato molto famoso, forse più col film ma lo era anche prima. Perkins ha lavorato su opere molto importanti dalla letteratura e forse è stato il primo editor a diventare piuttosto conosciuto e quindi a ridefinire quello che vuol dire lavorare sui testi. È un libro bello cicciotto però è molto interessante, anche se avete già visto il film vi consiglio di leggerlo per comprendere meglio chi è l'editor e cosa fa. Ora, non è un manuale chiaro, cioè non parla in generale dell'editing, non vi spiega come si fa l'editing o cosa accadrà al vostro povero dattilo scritto in edito, però parlare di Perkins è sempre interessante, è un pezzo di storia dei redattori di tutto il mondo e quindi insomma se siete autori o anche se volete fare gli editor questo è un must. E ripeto, non è così pesante, non è difficile da leggere, è interessantissimo, dunque partiamo da una cosa facile. Il secondo consiglio di oggi è una perla, cioè dentro la sera conversazioni sullo scrivere di Pontigia. Questo qui io l'ho preso adesso in biblioteca quindi è un po' conciatino, comunque questo libro è in realtà la trascrizione di una serie di puntate radiofoniche che Pontigia ha fatto anni fa e infatti alla fine trovate un pratico cd in cui, non l'ho provato ancora sinceramente, ma immagino che ci troverete dentro le registrazioni di quelle puntate che però trovate anche da ascoltare gratis online e magari se riesco a ripescarlo vi metterò il link qui sotto, quindi potete anche scegliere di ascoltarle e basta, qui invece le potete leggere. Pontigia è un critico e uno scrittore italiano e tutte queste sue riflessioni vi assicuro che sono non solo interessanti ma anche utili, sono dei punti fondamentali su cui tutti noi appassionati di scrittura dovremmo riflettere di più. Io prima di leggere questo avevo ascoltato appunto le puntate che mi sono state segnalate un po' di tempo fa dalla grande Silvia Pillin che mi dà sempre consigli utilissimi, però magari averli anche sotto forma di libro può essere utile per consultare, per insomma riprendere dei concetti, io vi consiglio di averlo o almeno di leggerlo, di prenderlo in biblioteca come ho fatto io. Se però volete risparmiare o se vi va bene anche ascoltare vi rimando al link in descrizione. Cosa ci trovate qui dentro? Ecco, come al solito questo non è per niente un manuale, in realtà ci trovate un po' di tutto, parla anche per esempio di stile, mi è piaciuto tantissimo, anzi è più di uno il capitolo ma anche i capitoli dedicati alla retorica, per esempio, tutti i concetti che magari già conosciamo, abbiamo presenti ma che magari non abbiamo mai approfondito abbastanza e se vogliamo lavorare con la scrittura dovremmo, quindi Pontigia è adorabile, è un grande maestro da seguire, insomma, quindi questa è una lettura da fare. Nemmeno questa l'ho trovata particolarmente pesante, quindi niente paura, non vi addormenterete sulle pagine, anzi se vi piace la scrittura vi appassionerete probabilmente. Altro consiglio e altro libro che ho adesso dalla biblioteca, anche questo un po' conciatino, è Critica e critici di Segre. Questo libro, secondo me, è un'ottima introduzione alla critica letteraria, anche per chi non ne sa un tubo di niente. Se volete essere autori o, ancor più, se volete lavorare in generale in editoria, ecco, qualcosa di critica letteraria è importante che voi la sappiate, la conosciate, quindi almeno questo dovreste proprio leggerlo. Si tratta di una rassegna dei pensieri di tanti critici importanti, che quindi dovremmo conoscere, e poi è bello perché c'è anche una seconda parte di riflessioni generali di Segre e poi una terza con delle analisi di testi. Quindi ci dà proprio una visione di insieme su cosa voglia dire fare critica, su cos'è, chi sono i critici più importanti, insomma, da leggere. Come già vi dicevo l'altra volta, tutti i libri di questa collana della piccola biblioteca in Audi, ce ne sono tantissimi anche su altri argomenti, però quelli verdi, così con questo sfumatore, sono tutti di letteratura, editoria, critica letteraria. Dovreste leggerli e averli tutti, però appunto questo potrebbe essere quello con cui partire, se siete a digiuno di critica. Anche se ne sapete qualcosa non fa male, ecco, però ve lo consiglio come inizio. Come livello di pesantezza siamo, diciamo, a metà. Non è un libro di intrattenimento, non è un libro divertente, però non l'ho trovato un grande ostacolo, ecco, non mi sono annoiata, solo che a me l'argomento interessa, quindi, insomma, valutate voi. Nella stessa collana è invece un must, questo qui, cioè, storia dell'editoria letteraria in Italia, che arriva fino al 2003 ed è di Ferretti. Ferretti, tra chi è appassionato di editoria, è un nome noto, quindi se per voi non lo è, rimediate subito. Questo è bello, importante e, ecco, nemmeno questo è divertente, non è un saggio, diciamo, che argomenta più di tanto, si parla di storia dell'editoria, appunto. Questo testo viene spesso incluso nei programmi di percorsi anche universitari sull'editoria, quindi se non avete frequentato master, scuole e con dei programmi, insomma, strutturati, rimediate leggendolo. Studiare da qui è importante, perché comunque, anche se non vogliamo inserirci nello specifico nell'editoria tradizionale, pure se vogliamo autopubblicare, comunque capire come ha funzionato nel passato, come si è evoluta l'editoria, come siamo arrivati, dove ci troviamo ora, è importante. Di manuali sulla storia dell'editoria ne esistono tantissimi, io vi consiglio questo perché l'ho trovato ben scritto, chiaro, insomma, però... Ora passiamo a un pezzo grosso. Mi sono domandata se consigliarvelo veramente, perché questa non è una lettura semplice, senza dubbio. A me è appassionato molto, quindi, cioè, ve lo consiglio, insomma, a me è piaciuto tantissimo, però io sono pazza, quindi non dimentichiamocelo, ecco, valutate bene se considerarlo o no. Sto parlando di che cos'è la letteratura di Sartre. Questo è un libro del saggiatore, il saggiatore è adorabile come casa editrice, mi sembra un'edizione vecchiotta. Vediamo a che anno risaliva quando l'ho comprato. Ecco, questo è del 2009, spero che ci sia ancora in giro, insomma, però ci sarà in qualche modo, leggetelo. Come dicevo, questa non è una lettura lieve, anzi, è abbastanza complessa. Stiamo parlando di Sartre, quindi, insomma, e poi scusate per come lo pronuncio, immagino che sarà sbagliato, ma vogliatemi bene lo stesso. Insomma, questo saggio è un libro molto importante, uno dei più importanti che parla di letteratura del Novecento, chiaramente la visione di questo autore è qui, però credo sia molto utile per farsi un'idea personale di cos'è per noi la letteratura e più che inventarcela da zero, insomma, sarebbe bene confrontarci con i grandi del passato, quindi io ve lo consiglio. Per me è stata una lettura importante, nonostante appunto ci voglia un po' di tempo, leggetelo con calma, rifletteteci sopra, non è un libricino da spiaggia, insomma, però... E ancora, visto che oggi siamo un po' accademici, che in realtà questo non è accademico, ma va bene, vi consiglio anche il prontuario di punteggiatura, di Bice Mortara Garavelli, che è un uomo, un professore, e è un nome noto anche questo, perché è appassionato di editoria, scrittura. Sappiate che io consiglio spessissimo questo libro ai miei autori, e non solo a chi non sa usare la punteggiatura. È molto facile, infatti, pensare che noi siamo bravi, noi le sappiamo mettere le virgole, non c'è bisogno di leggere un libro su questo, invece vi consiglio di leggerlo in ogni caso. È sempre utile, non solo per ripassare, per assicurarsi di non essere convinti di stupidaggini, ma anche per scoprire magari qualcosa che non sappiamo, e c'è sempre, vi assicuro. Quindi, consigliatissimo. Vi consiglio oggi poi due testi abbastanza pesi, però importanti, che sono consigliati in particolare per l'autore che vuole scrivere fantasy o narrativa fantastica di qualsiasi tipo. Sappiamo, infatti, che la letteratura fantastica, in generale, ha una tradizione, una storia molto antica, e quindi, prima di creare il nuovo, dovremmo dare un'occhiata a quello che c'era prima, insomma, no? Dunque, il primo che vi consiglio è La Fiava nella tradizione popolare, sempre del saggiatore. È un bel mattoncino questo, però l'edizione è molto carina, e nonostante sia scritto un po' piccolo, ecco qua, piccola critica, perché il fonte è molto, molto piccolo, e questo fa un po' faticare, però essendo un bel mattoncino, in effetti, scrivendolo più grande, veniva il doppio, insomma, abbiamo pietà del saggiatore. Però, per me questa è stata una lettura molto interessante, nonostante io uno scriva fantasy, e quindi, ve lo consiglio in generale, qualsiasi cosa voi scriviate, perché comunque sempre di fantasia si tratta, però, in maniera particolare, se siete amanti del fantastico. E' particolarmente interessante il retro di questo che dice Un tempo, le fiabe non erano in alcun luogo considerate puerili. Sono state una delle principali forme di divertimento per tutti i componenti della società, giovani e vecchi. Ancora oggi, negli angoli più remoti del mondo, le fiabe servono a dare espressione artistica alla fantasia e ad arrecare il divertimento e l'animazione a certe monotone esistenze. Esse si manterranno ancora a lungo quali mezzi importanti di educazione e di diletto. In realtà questo è anche un libro ricco di curiosità sulle fiabe che conosciamo, sugli stereotipi che ci ritroviamo dentro, sui significati, le metafore. Non lo so, per me è stata una bella lettura in ogni caso e ve la consiglio, e non è pesante, appunto. Sempre sul fantastico abbiamo Prop, altro nome che dovrebbe già esservi noto. In particolare vi consiglio le radici storiche dei racconti di fate. Prop, analizzando appunto questi racconti tradizionali da tutto il mondo, si è reso conto che avevano dei punti in comune, ovunque, in ogni tempo, ecco. Quindi questa è un'analisi approfondita di questo aspetto qui. E come nel libro di prima, ci aiuta a comprendere quello che c'era alle nostre spalle, insomma, e come possiamo utilizzarlo per creare il nuovo. Questo libro, che è Bollati Boringhieri, però, ha un problema grosso. Cioè, il suo costo è 20 euro, almeno lo era quando l'ho comprato io, anche questo sarà vecchiotto, spero che troviate ancora tutti questi libri. No, però questa è una ristampa del 2017, quindi, insomma, non è così vecchia. Però ha un problema, costa 20 euro, dicevo. E ha un font, cioè, praticamente è stato stampato tutto in grassetto. Ora, io vorrei chiedere alla carissima Bollati Boringhieri cosa aveva fumato, perché questo purtroppo, almeno per me, che ho dei problemi, ha reso la lettura molto difficoltosa. Cioè, aprendolo mi sono chiesta se fosse stato stampato male, proprio, però no, è tutto così. E... ho perso la vista, insomma. Cioè, magari dovrebbe facilitare, ma a me è dato fastidio, non lo so. Ditemi voi come vi trovate, se lo leggete. Però, se riuscite ad andare oltre questo piccolo problema, magari lo potete trovare in ebook, oppure in inglese, in altra edizione, non lo so, ecco. Però, il libro in sé è molto interessante, quindi, se riusciamo a vedere qualcosa, potremmo goderne. E, nuovamente, appunto, questo è importante sia per chi vuole scrivere di fate, non solo di fate, ma di qualsiasi creatura immaginaria, sia per tutti gli altri, in realtà. E sono libri che io trovo molto affascinanti, proprio per le curiosità che ci spiegano sulla creatività umana in generale, no? È sempre interessante. Infine, visto che spesso mi chiedete libri in inglese che magari non si trovano facilmente in Italia, vi consiglio questo qui, cioè il business di essere uno scrittore, che, appunto, non credo sia mai stato tradotto in italiano. Ovviamente, troverete tutti i nomi e gli autori in descrizione, quindi niente panico, non dovete screenshotare, li trovate giù se vi interessano. Allora, questo libro è sicuramente molto meno accademico degli altri di oggi, molto meno pesante e molto, eh, così, divulgativo, molto semplice, in realtà. Non dice niente di sconvolgente, quindi non vi aspettate di ricevere delle istruzioni mai sentite prima, però credo sia il libro migliore che abbia mai letto sull'argomento, perché con semplicità, con molta onestà, parla proprio dell'altro lato della scrittura, cioè quella che riguarda, appunto, il business, i soldi, il guadagno, il mettersi in gioco, eccetera, eccetera, anche la promozione. Non ce ne sono molti che affrontano solo questo aspetto qui in giro, e questo, ripeto, è il migliore che ho trovato, quindi se vi interessa l'argomento, vi consiglio questo qui. Il difetto, appunto, è che, cioè, io l'ho letto con piacere, ma in realtà non è che io abbia imparato qualcosa di così mai sentito prima, però considerando che siete sempre alla ricerca di informazioni sulla promozione, alla fine qui dentro c'è tutto ciò che dovreste sapere, più di questo non si sa cosa dirvi, quindi se non siete degli esperti in questo campo, questo assolutamente. Bene, stanno ricominciando i lavori, quindi devo fuggire, intanto piove, spero che abbiate sentito quello che dicevo durante il video, e speriamo anche in condizioni migliori in futuro, comunque vi ringrazio per avermi seguito, ditemi nei commenti se vi sono interessati questi titoli, se ne conoscete altri simili, che consigliereste ad altri autori, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!